No, non posso portare la pellice. Non può portare la pellice? Sono obiettore. Ah, obiettore di coscienza. Sì, penso che la lascio qua. La lascia qui e noi siamo ben contenti, la teniamo qua. Grazie! La teniamo qua e... Che brava! Complimenti! Faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani perché allora, signore, non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto. Quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così. Quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa come voi. Comunque, noi siamo pronti per cedere adesso la mano a quello che segue dopo e ci diamo appuntamento per domani alla solita ora. Ciao a tutti! Eh, figurati, adesso si rifà perché non accettano così di... Senti, Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo, non lo dici. Se la signora lo è, lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque, io non lo faccio. Arrangiatevi. E così imparerà. Amene? Arrangiatevi. Vada in onda e voglio vedere che cosa succede. Ok? Si può essere più str... Si può essere più str... Si può essere più str... Io una così la caccerei sui due piedi. Ma io me ne vado anche subito, eh? E glielo ho già detto un paio di volte che non lo deve fare. Ma io me ne vado anche subito. Vai! E vado, ok? Vai, se vuoi andare vai, così ti faranno caos. Sono le pellicce perché sono contro... Si, brava. Vi rendete conto, signori, che sta str... I signori... E vado, ok? E vado, ok? E vado, ok? E vado, ok?